Cerchiamo di riconoscere ciò che abbiamo invece di lamentarci delle cose che vorremmo avere. Molti non riescono a vivere il presente con serenità perché rimurgilano continuamente su molti desideri non realizzati e su richieste di grazie non esaudite. Noi dobbiamo avere fiducia in Dio, nella Madonna e nei Santi. Se riconosciamo il grande dono dell'esistenza e tutti gli altri doni, allora il Signore ci inonderà di più grazie. A Lui piace la riconoscenza anche per quelle che consideriamo le piccole cose. Un cuore grato e gradito a Dio.